salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video oggi siamo fuori fatemi le dare le frecce come state tutto bene un po di tempo che non ci sentiamo ho avuto un sacco di cose da fare che non mi hanno permesso di fare video di girare video ma oggi vi porto con me perché andiamo fuori città andiamo a visitare una parte che non so non sapevo neanche esistesse quindi dal titolo avete capito scampagnata mi sono armato di birra acqua e panino dal porchettaro tanta roba direzione amelia ci vediamo direttamente lì perché mi stanno mi stanno aspettando già sono in lieve ritardo fortunatamente ragazzi il tempo è bello quindi doveva piovere però dai forse c'è andata bene il posto non lo conosco però dalle foto è bello dovrebbe essere una specie di cascata di paci non ho ben capito cosa vedremo quando siamo lì dai lui è gimbo perché si vergogna a farsi vedere questa ragazza io ho l'immagine tutelata vedete la tutela mascherina profigua che è una tomba questa faccene il fuoco gagliardo ma non premiamo le scatole alessia no l'ha fatta già e aspettà niente tipo una campagna enorme con una tipo una specie di capanna sembra tipo quelle cose di cavalli e poi c'è una parte che fa il fuoco con la pace no no per carità sei matto sei pazzo e ora vi è c'è una barca abbandonata nel bosco ma è tutto nella normalità qui si fa così allora davanti c'è gimbo che non vuole essere ripreso perché è importante vedete si è incappucciato gimbo fa così quando si sente come gli animali quando si sente attaccato si incappuccia oh siamo arrivati lei è il raghele comunque non si è fatto vedere prima c'è un pescatore salve mi vuole hanno spento no no è rotto ecco in realtà l'ossi sarebbe dovuto apparire così non così cioè noi ci aspettavamo così e invece era così ma noi credevamo fosse così e invece era così ecco magari se mai decidete di andare cercate se potete prima di capire se effettivamente la cascata è attiva o no proseguiamo un gagliato con la casa di roccia però oh ci sono i girini i girini questa è la vera motivazione per cui siamo venuti qui non è vero la mia non è questa ragazzi questo ragazzo che non si vuole far vedere si è infrattato adesso lo copriremo leva tira qui da dietro per fare pipì guardate qui quante ne ha fatto che schifo che schifo va bene torniamo se arrivi per un attimo sono successe varie cose allora storia di rio grande ragazzi andate avanti però perché non volete essere ripresi dopo vi vedevo prende a forza io quindi bacino del rio grande la storia perché non era acceso di solito è acceso e questa ridere la storia di questa barca lei è la nostra guida vero jimbo puoi parlare però non può parlare non può parlare la cascata spesa si infatti non si è capito perché ma è nativa è nativa no che sapete perché magari la chidevano ok ma tu la vi sia mai accesa non devi ridere ma non lo posso dire questo perché se no si sa chi è che palle che serve sei proprio una censura vivente vabbè parco proprio c'è il nome sempre parco rio grande facendo il rio grande e c'è questo qui che era bacino la barca abbandonata che non si sa chi l'abbandonata qualche navigatore che ha cercato il rio grande poi c'è qui vicino ma ci sono altri sentieri intorno dove ti porta il cuore vai tipo qui poi ci stanno tutti sti tavolini isolati comunque che fa non c'è una zona dove c'è stanno tanti meno 7 cavoli suoi dunque bacino del rio grande amelia piccolo presino alle vendici dei monti umbri mi dicono delle colline ombre che stanno a 3.000 metri la ragazza un po di problemi con le misure però colline questa media giusto questa media io chiedo a te perché non so niente questi costi arrivi a gimbo non ti sto riprendendo andiamo al sentiero dicevo quelle due chiese grosse hanno un nome sono cattedrali di amelia il domo da quella destra quella destra quella destra quello è il duomo quella è un'altra chiesa di cui non sappiamo il nome ma quelle d'uomo gimbo tu che sei esperto cosa sono un po di prendermi ma non ti sto riprendendo la guarda che se ragazzi giro è fissato seriamente che sono siamo a questi livelli non si parla perché non può essere ripreso non farai una gran bella figura gibo o il favino o il girasole siamo riusciti a capire cosa potrebbero essere questi piante adesso stiamo andando in ava scoperta non abbiamo una meta ma c'era pure in generale ma c'era dico pure l'acqua c'era più acqua prima cioè vuole sempre piana così praticamente la situazione è questa sono altri due sentieri che portano alla paratoia ea una sorta di rocce dove scende l'acqua tipo cascata piccola non solo termine specifico come chiamarla ho fermato delle persone che sembravano essere di qui perché stavano correndo e mi ha fatto sì sì no guarda qui di cascata ce n'è una ed è quella lì del bacino del rio grande che abbiamo visto io ho fatto sì no ma quello è il bacino del rio grande qui sulla mappa è segnata quest'altra cosa io la prima volta che la sento ma cavolo sei di qui quindi adesso stiamo vagando cercando di capire perché il fiume sta là e dobbiamo riuscire a capire come arrivarci non credo però sia questa la strada giusta la troveremo qualcuna non ci si chiama che hanno dei pezzi allora cerchiamo papere in calore anatra in calore vabbè non ci stanno manco più comunque comunque non abbiamo quel sentiero non portava da nessuna parte e adesso penso forse spero proviamo a chiedere al bar ciao vinicio fare sentiti oca come si chiamava reginaldo ciao reginaldo reginaldo vedi guarda reginaldo mi stanno a puntare io c'ho paura rega queste le stanno a puntare sperduti per le campagne però dovremmo aver trovato il luogo e poi qui la sorgente infatti c'è abbiamo fatto sulla strada esterna un chilometro e mezzo due chilometri e poi abbiamo girato su questa strada pisciarello e abbiamo chiesto un altro autista la vedi con la sedia si è lì e infatti adesso dovremmo trovare in teoria una sedia dove c'è la sorgente non c'è niente sto ponte non mi sa molto stabile ragazzi ma questo che è per pensare se ti va fatto qualche cosa di brutto ti metti qui e pensi ti fai un esame di coscienza eccolo il famoso pisciarello poi è rilassante poi mi piace sto palo qui per le macchine chi cazzo è che è bene qui vabbè qui davvero ti metti a sede su sta sedia guardi questo e pensi alla tua vita comunque l'utilità a questa cosa non ho capito questo era la sorgente e adesso ci rispettano altri due chilometri indietro e penso che ci fermiamo a mangiare le 13 11 quindi anche ora di pranzo mi hanno lasciato indietro grazie sempre alla barca si torna this is the place antibatterico ciao ragazzi si è benvenuti qui in questa nuova puntata e alessia e rachele ragazzi unica ragazza che ci ha portato qui e non sapeva dove fossero i sentieri e poi c'è gimbo che sta facendo il filmato saluta con la mano gimbo grazie e niente adesso approfittiamo vista la giornata per andare a visitare il paesino di amelia pensa che infatti noi stiamo forse dietro questa è la strada che facciamo noi a piedi è vero qui stavamo qua noi prima quella era la stradina che hai visto tu portava la casa si è quella era al campo ponte sta lì in mezzo qui perché si chiama il ponte terrensill perché terrensill c'è il padrone del teatro d'amelia e gli hanno intitolato sto ponte si ha fatto costruire lui o già c'era no non c'era casa di qualcuno a quello laggiù non so se si riesce a vedere è il monte soratte molto probabilmente il monte soratte vi lascio qui sopra il video se non avete visto l'into the wild riferita al monte soratte festeggia festeggia con me festeggia con me festeggia con me che siamo usciti quanti chilometri avremmo fatto mezzo 12 13 solo nel centro di amelia e niente ragazzi questo era l'episodio spero che vi sia piaciuto è così lasciato mi piace condividete il video e ci vediamo nel prossimo video spero presto e arrivederci ciao 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 ciao